Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca basilica gremitissima già da questa mattina dalla prima messa delle ore 6 per salutare il santo completamente occupati tutti i posti a sedere e pellegrini seduti anche sui gradini delle cappelle radiali un grande abbraccio dai padovani e dai pellegrini di tutto il mondo giunti oggi sino a qui dalle 5 e mezza i pellegrini erano in attesa di entrare in basilica il santuario era gremito al punto che nelle prime due messe quella delle ore 6 e quella delle 7 risultava già difficile transitare lungo le navate lunghe code anche sul sagrato per accedere al santuario dalla porta nord ed arrivare secondo il percorso già designato alla tomba del santo sorvegliata dai volontari e poi ancora la cappella delle reliquie alle 15 di oggi pomeriggio erano già oltre 4 mila i passaggi segnati dal contapersone una ventina le guardie della basilica in servizio suddivise in due turni fino alle 19.30 di questa sera e poi circa un centinaio di volontari pronti a soccorrere coloro che eventualmente si sentissero male torniamo a parlare di vaccinazioni la giunta regionale del veneto ha dato mandato alla vocatura regionale per predisporre un provvedimento di impugnativa del decreto numero 73 dello scorso 7 giugno che ha introdotto la obbligatorietà di 12 vaccinazioni entro i primi 16 anni di vita lo ha comunicato il presidente della regione del veneto Luca Zaia in Veneto unica regione d'Italia ad aver abolito dieci anni fa l'obbligo vaccinale ha ricordato Zaia risulta vaccinato con un siero esavalente il 92,6% dei nati nel 2016 un indice di copertura in netta ripresa dopo il minimo storico accaduto nel 2014 che aveva visto l'88,6% dei vaccinati ancora la cronaca questa volta all'alba di oggi tra le province di Modena Verona, Padova, Mantua, Rimini e Rovigo i militari del nucleo investigativo di Modena a conclusione di una operazione denominata Teguei hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di 11 nomadi di etnia Rom 6 ora in carcere e 5 agli arresti domiciliari originali della Bosnia ma da anni residenti in Italia proprio tra le province di Modena, Rimini, Rovigo, Verona, Padova e Mantua ritenuti membri di una banda specializzata in furti aggravati in varie regioni del nord Italia ai danni di Sportelli Bancomat di vari istituti di credito sradicati mediante l'utilizzo di carro attrezzi tragedia ieri sera intorno alle 21.30 lungo la Statale 16 a Solesino nella provincia Padovana un'anziana di 78 anni Ginalizzo è stata travolta e investita sulle strisce pedonali nei pressi del ristorante La Cappadoro mentre stava attraversando la strada per rientrare a casa come è andata? Parliamone come di una partita di calcio alla fine del primo tempo al Padova Stadium Bitonci resto del mondo 1-0 la squadra dell'ex sindaco ha messo a segno il gol del vantaggio con il 40% dei consensi insomma stiamo un po' analizzando i dati come fossero appunto i dati di una partita di calcio buono il possesso palla, la civica è il primo partito della città e la superiorità territoriale infatti ha conquistato 184 sezioni su 206 da migliorare le triangolazioni in attacco bene quella con la Lega che è cresciuta da rivedere quelle con Forza Italia e le altre liste minori il canoniere aspetta rinforzi quelli di ritorno dal ponte della festa del Santo che non sono andati a tifare al primo turno il secondo tempo qui si gioca fra due settimane intanto gli avversari stanno trattando per la seconda punta da affiancare a Giordani ovviamente stiamo parlando di Lorenzoni nel ruolo di rifinitore vedremo ancora si parla di banche le banche popolari venete oggi sono alle prese con le valutazioni delle autorità europee che dovranno decidere se salvare o meno le banche soprattutto per la banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca ma a Roma c'è un certo ottimismo è da mesi che Bruxelles valuta le varie opzioni è una strada che rimane piena di insidie e dopo l'ultima porta in faccia nel giorno in cui si riuniscono i board di Popolare e di Vicenza e Veneto Banca la salvezza rimane per loro in bilico Unicredit è possibilista sul piano di salvataggio a spese delle banche sane mentre intesa San Paolo sonderà gli umori del consiglio della riunione che appunto è stata convocata oggi in relazione al caso sia su Veneto Banca che Popolare di Vicenza il ministro dell'economia e delle finanze Padovan ha detto che la soluzione è ormai prossima e che le interlocuzioni con le istituzioni europee sono incoraggianti il ministro ribadisce che la soluzione non contemplerà alcuna forma di bel-in e che le obbligazioni, soprattutto quelle senior e depositanti saranno in ogni caso pienamente garantite La campanella scolastica ha calato il sipario non soltanto sulle lezioni ma per motivi di sicurezza anche sulla storica scuola elementare di Valstagna Papa Giovanni XXIII che chiude definitivamente i battenti Buone notizie invece per quanto riguarda il poventato rischio di chiusura della prima media a Solagna per una questione di numeri di studenti iscritti che aveva sollevato le rimostranze dei genitori anche se manca la ufficialità ha confermato la responsabile dell'istituto Carla Carraro mi è stato assicurato il regolare avvio del prossimo anno scolastico per la prima media di Solagna Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione come sempre vi diamo appuntamento alle prossime edizioni ed ora la linea va subito ai colleghi delle altre redazioni Grazie a tutti